Non dimenticherò mai quel 31 maggio di sei anni fa, quando ci siamo incontrati la prima volta per un aperitivo. Quella sera ricordo di essere riuscito a pronunciare tre o forse quattro frasi in tutto. Da quel giorno il tempo è volato ed oggi mi sembra un sogno trovarci qui, marito e moglie. È vero, sei bellissima e questo credo che all'esterno lo notino tutti. Ma solo in pochi sanno quanto tu sia meravigliosa dentro ed è proprio questo ciò che amo di più, la parte di te che nessuno conosce e prometto di custodirla gelosamente. Amo il modo in cui mi guardi e il nostro essere in sintonia. Amo la pazienza che hai con me anche quando divento insopportabile. Sei la persona più sincera, leale e schietta che che abbiamo entusi. Diamo gli stuati.